248 la Camera respinge. Allora, favorevole del relatore di minoranza Placido. Ha un senso nella rivoluzione industriale nei decenni. Non mi pare, lo metto subito in votazione. Si presta servizio a una comunità di cui si è parte integrazione, la partecipazione alla gestione e anche aiuti. Ovviamente senza ritirare l'emendamento come... Hanno votato al parere del relatore di maggioranza. Per questo noi avevamo... Renzi si affretta a fare tutto questo perché è reso stagnante da regole antiquate che hanno discriminato tra garantiti e... Garantiva poche, oramai pochi lavoratori dato che... Devo revocare prima la votazione, un secondo... Allora... ...degreti legislativi. Abbiamo visto con l'emendamento Gniecchi riformulato. Io adesso... Grazie al pacchetto Fornero, per poter essere reintegrato sul posto di lavoro occorreva che il motivo... Per poter essere reintegrato sul posto di lavoro... ...e accanirvi contro un diritto che è già... E chi sta invece dalla parte di Confindustria? Grazie. Grazie. Allora, deputato Rampelli, prego. Il provvedimento è qui, è in aula... ...e polverini, perché io ho tanti ricordi recenti di posizione prese a difesa dei... Allora, colleghi, prima della collega Daniela Sbrollini è stata colpita da un grave lutto, cioè la...